sto cambiando la ganacia delle freni di stazionamento perché anche non frena bene è indietro consumata meglio così tutto diventa a posto come vedete ragazzi due sotto terzo sopra secondo di sopra il primo due di sotto sul lato sinistro che corrispondono con i cavi verdi bianco marroni verdi bianco marroni responsabili del comando volante so for the fiesta questo video è speciale per l'Astaz Mحمed Al-Selab An Italia? An Italia An Italia An Italia